oggi vi propongo un menù di pesce completo per la cena della vigilia di natale iniziamo Aragosta alla catalana in acqua bollente metto l'alloro il sale e faccio bollire l'aragosta per 15 minuti una volta bollita separo la testa dalla coda tolgo il carapace aiutandomi con le forbici taglio a pezzetti la polpa ricavata ed ora faccio una citronette con olio sale pepe e limone in una ciotola metto i pomodorini la cipolla l'aragosta la citronette mescolo e buon appetito insalata di polpo a modo mio iniziamo nell'acqua bollente metto l'alloro il sedano le carote poi metto il polpo facendo le quattro calate in modo da far arricciare i tentacoli e lo faccio cuocere per 35 40 minuti poi spengo e faccio raffreddare per un'ora lasciando il polpo nella sua acqua nel frattempo nel bicchiere del mini peeper metto il succo di limone i gambetti di prezzemolo il pepe nero l'olio un po di acqua del polpo l'aglio frullo tutto poi setaccio taglio il polpo a pezzetti lo metto in un contenitore aggiungo la citronette il prezzemolo poi lascio riposare qualche ora ed eccolo qui io ci metto anche le olive verdi buon appetito risotto alla pescatura brodetto veloce con olio aglio pomodorini dorato l'aglio metto i carapaci le teste dei gamberi e degli scampi regolo di sale schiaccio col batticarne sfumo col brandy una volta evaporato metto l'acqua e faccio bollire per almeno 35 minuti poi tolgo l'intestino a scampi e gamberi e li risciacquo filtro il brodetto e lo tengo da parte a questo punto metto le cozze in una padella calda e dopo 2-3 minuti inizio a toglierle man mano che si aprono filtro il loro liquido e lo metto da parte e faccio la stessa cosa con le vongole poi faccio tossare il riso metto l'olio in una casseruola l'aglio quando sarà dorato metto i calamari poi scampi e gamberi e dopo qualche minuto tolgo l'aglio e metto cozze e vongole sgusciate a questo punto aggiungo il riso sfumo con il vino bianco allungo con il liquido di cozze e vongole un po di brodetto bollente e faccio cuocere aggiungendo altro brodetto all'occorrenza a fine cottura spengo e metto il pepe prezzemolo e buon appetito spaghetti alle vongole in bianco i più semplici ma allo stesso tempo e più gustosi fateli con me iniziamo prima di iniziare faccio spurgare bene le vongole in acqua e sale per un paio di ore in uno scuola pasta non a contatto con il fondo di un contenitore in modo che i detriti possano depositarsi sul fondo ci vorranno 20 grammi di sale per ogni litro d'acqua poi salo l'acqua metto a cuocere la pasta nel frattempo trito l'aglio trito il prezzemolo olio in padella metto l'aglio quando sarà dorato metto il peperoncino il prezzemolo subito le vongole copro e a fiamma alta aggiungendo un goccio di acqua di cottura della pasta faccio aprire le vongole ci vorranno 3-4 minuti aperte tutte le vongole trasferisco in padella la pasta molto al dente e facendo saltare mescolando faccio insaporire bene quando la pasta sarà cotta e ben insaporita spengo e metto altro prezzemolo un filo d'olio ultima mescolata e guardate qui che cremina sono deliziosi buon appetito calamari fritti nella friditrice d'aria facili leggeri e tanto buoni fateli con me iniziamo dopo aver pulito e sciacquato i calamari ritaglio rondelle spesse circa un centimetro nella parte del mantello e poi taglio a pezzetti pinne e tentacoli poi in un contenitore metto la semola il pangrattato la buccia di limone stando attento a non grattugiare la parte bianca che amara il pepe e mescolo dopodiché metto i calamari e mescolo bene bene affinché tutti i pezzetti possano essere infarinati bene a questo punto metto una parte dei calamari scuotendoli per rimuovere la farina in eccesso nel cestello della friggitrice d'aria che ho preriscaldato per qualche minuto spruzzo un po di olio extravergine d'oliva metto i calamari restanti un altro po d'olio chiudo e faccio cuocere per 10-12 minuti a 200 gradi in modalità pesce sulla mia friggitrice per esempio come simbolo c'è un gambero a metà cottura giro i calamari e poi a fine cottura metto il sale mescolo ed eccoli qui sono buonissimi se volete delle seppie tenerissime e saporitissime fate questa ricetta con me e squisita iniziamo per prima cosa taglio grossolanamente la seppia dopo averla pulita e sciacquata bene poi taglio finalmente la cipolla taglio uno spicchietto d'aglio metto l'olio in un tegame o una padella alta aggiungo aglio e cipolla ed una volta rosolati metto la seppia e faccio cuocere a fiamma molto alta per una decina di minuti il tempo che occorrerà a far rilasciare l'acqua e a farla asciugare bene a questo punto sfumo con il vino bianco evaporato l'alcol aggiungo la salsa il doppio concentrato di pomodoro regolo leggermente di sale copro e faccio cuocere per 50-55 minuti a fiamma bassa poi spengo e metto il prezzemolo un po di pepe ultima mescolata ed ecco qui filo d'olio prezzemolo e esquisita